Musica Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal Veneto e agli ultimi fatti. Venezia è ancora vittima della ribellione con gesti sconsiderati da parte di un gruppo ambientalista. Nell'acqua oggi è stata versata una sostanza che l'ha colorata di rosso e di verde. È accaduto nel pomeriggio. Per questo gesto sono stati fermati due cittadini francesi. Hanno versato la sostanza mentre si trovavano a bordo di un vaporetto. È intervenuta la polizia che li ha bloccati. Non è dato sapere l'origine del colorante. Adesso parliamo di una preoccupazione che c'è a Padova per il futuro dello stadio Euganeo. Il questore della città Marco Odorisio ha chiesto che vengano eseguiti degli interventi urgenti in vista della prossima stagione. Il questore ritiene necessari questi lavori per la sicurezza. Gli interventi riguarderebbero lavori sulla curva nord e la sostituzione di tutta la recinzione che circonda lo stadio. Chiesti anche altri tipi di interventi, tutti mirati a rendere la struttura più protetta. Ovviamente questo tipo di lavori richiede una spesa molto elevata. Parliamo di milioni di euro che dovrebbero essere versati dal comune. E ovviamente il questore quindi mette in dubbio l'agibilità dello stadio senza questi lavori. Dunque seguiremo questa vicenda. Parliamo adesso delle liste d'attesa. 500 camici bianchi in Veneto in libera professione hanno risposto alle richieste della regione per aumentare la presenza di medici e abbassare queste liste d'attesa. Si tratta di professionisti che lavoreranno a gettone a una tariffa oraria compresa tra i 60 e gli 80 euro. Un camion ha causato dei danni a un ponte successo lungo l'autostrada a Vicenza. Vi raccontiamo questi momenti. Alle 9.45 di stamattina i vigili del fuoco sono intervenuti in Viale Sant'Agostino a Vicenza per una canaletta penzolante dal sovrastante ponte dell'autostrada. Un camion con sopra un ragno ha strisciato il tetto del ponte per poi agganciare e danneggiare le canalette poste sul bordo del manufatto. Il mezzo pesante ha poi proseguito senza fermarsi. I vigili del fuoco arrivati nell'immediatezza dopo l'allarme dato da alcuni passanti hanno segnalato il pericolo ai mezzi in transito fino all'arrivo della pulizia locale. Hanno poi provveduto con l'autoscala la rimozione della canaletta penzolante lunga oltre 4 metri. I servizi posti nella conduttura sono stati posti in sicurezza e rimosse tutte le altre parti pericolanti. Presente anche il personale dell'autostrada A4. Le operazioni di soccorso di vigili del fuoco sono terminate intorno alle 11. In corso le indagini per la ricerca del camion che ha causato il danno. Evacuato e emesso il divieto di stazionamento nelle vicinanze di Palazzo Bernardo che si trova nella zona di San Polo a Venezia. Un provvedimento d'urgenza che è stato emesso dal comune per il pericolo di Crolli. Dunque per la pubblica incolumità è stato emesso il provvedimento. Una grave fatto di cronaca a San Polo di Piave. Due giovani marocchini sono finiti in carcere per avere sequestrato e picchiato un loro connazionale. La vittima era stata derubata di un orologio. I due gli avevano chiesto un riscatto di 1000 euro per averlo indietro. La vittima era stata attirata in un'abitazione con un tranello rinchiusa in una stanza dove è stata picchiata e derubata. Nei giorni successivi continuava a essere vessata con richieste di pagamento per avere indietro l'orologio. L'uomo però si è rivolto alle forze dell'ordine. Dopo alcune indagini la polizia hanno identificato e arrestato i due uomini. Si concluderanno a mezzanotte i controlli partiti la scorsa notte sulle autostrade e le principali arterie ritenute pericolose. Un'operazione della Polizia di Stato mirata alla prevenzione degli incidenti e all'alta velocità. Gli incidenti stradali rimangono un grave problema nel nostro paese con troppi morti. Per questo è fondamentale educare i conducenti a una guida consapevole e contrastare ovviamente la velocità. E dobbiamo parlare proprio di un incidente avvenuto sulla A31. Due i feriti. Nel pomeriggio di ieri un incidente è avvenuto sull'autostrada A31 tra lo svincolo di Vicenza Nord e l'intersezione dell'A4 in direzione sud coinvolgendo due furgoni. I vigili del fuoco sono stati prontamente chiamati per intervenire sul luogo. Nell'impatto i conducenti dei due furgoni hanno riportato ferite lievi. I pompieri giunti dalla centrale hanno immediatamente messo in sicurezza i mezzi coinvolti mentre il personale sanitario del SUEM ha prestato assistenza medica agli autisti. Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine della Polstrada e gli ausiliari di autostrade per gestire la situazione e regolare il traffico nella zona interessata dall'incidente. Nonostante il disagio temporaneo al traffico le autorità hanno lavorato rapidamente per garantire la sicurezza degli automobilisti e la fluidità del transito lungo tutta la tratta. Nel corso del 2023, 177 donne si sono rivolte per la prima volta al centro antiviolenza del Comune di Venezia registrando un aumento rispetto ai 143 casi del 2022. L'incremento apparentemente negativo viene invece interpretato dalle operatrici come emersione del sommerso e presa in carico da parte delle vittime nel denunciare. Questi e molti altri sono i dati che sono stati esposti questa mattina e che oggi è stata dedicata l'attenzione al prezioso operato proprio del centro antiviolenza arrivato al trentesimo anno di età. Nel corso del 2023 le strutture di pronto soccorso di Mestra e Venezia sono state attivate 99 volte in modalità 24 ore per casi di violenza rispetto alle 79 dell'anno precedente. Nel corso dell'incontro inoltre è stata sottolineata l'importanza ricoperta dalle case rifugio con tre strutture operanti sul territorio e l'apertura di una quarta prevista per la fine del 2024. Parliamo adesso della crescita occupazionale nel nostro territorio, parliamo dunque di lavoro, cresce il settore turistico, sentiamo cosa scende. Nel primo trimestre 2024 il mercato del lavoro in Veneto ha registrato un saldo positivo per 28.200 posizioni dipendenti grazie soprattutto al bilancio occupazionale del mese di marzo che con 17.800 posti di lavoro guadagnati fa segnare un risultato migliore rispetto a quello dello stesso mese dell'anno precedente. Le assunzioni sono in linea con quelle dello scorso anno, mentre le cessazioni registrano un lieve aumento dovuto soprattutto alla crescita dei licenziamenti. Si confermano, secondo l'analisi, segnali di un progressivo rallentamento della crescita occupazionale sia per una progressiva saturazione del bacino di posizioni disponibili, sia per il permanere delle difficoltà nel reclutamento del personale. Le dinamiche stagionali spingono il settore turistico, mentre vi sono rallentamenti nel metalmeccanico e in alcuni comparti del made in Italy. Venezia e Verona sono le province nelle quali si concentra la crescita occupazionale. Grave incidente stradale oggi in provincia di Padova, due carrare nello scontro tra una Toyota Yaris e una Peugeot. Rimasta gravemente ferita una delle due conducenti. Sul posto è stato fatto atterrare l'alicottero del 118 che l'ha portata all'ospedale. Ferita anche l'altra guidatrice, ma non in modo grave. La causa dello schianto che è avvenuto a ridosso di una curva sarà da ricostruire. Sentenza shock sugli autovelox da parte della Cassazione. I fatti si riferiscono agli apparati installati sulla tangenziale di Treviso che sarebbero autorizzati ma non omologati. Una decisione storica che di fatto indica la non conformità degli apparati. Cosa succederà ora e per il futuro? Al cittadino che aveva avviato il procedimento ovviamente è stata annullata la multa ma questa sentenza potrebbe influire anche su altri provvedimenti eppure in altri comuni italiani. Intanto dal comune di Treviso hanno fatto sapere che i Velops resteranno attivi. E adesso l'appuntamento è con la storia. È il momento di approfondimento del venerdì. Allora diamo l'appuntamento a Maria, diamo la linea, scusate, a Marisa Sottovia che questa sera ci parla della storia dei tulipani. Ben ritrovati con la storia. Oggi parliamo del tulipano, un fiore legato all'amore, all'allegria, alla felicità, sempre più diffuso e gradito. E allora conosciamo la sua storia. Il nome scientifico è Tulipa e appartiene alla famiglia degli Liliace. Inoltre è un nome che deriva dal turco tulbente che significa turbante. Ha origini nei monti del Pamir nel Tajakistan e poi successivamente è stato diffuso in altre zone, Balcani, Grecia, penisola iberica e via via. Ma la sua espansione si ebbe in Turchia nel XVI secolo con il regno di Solimano il Magnifico che volle coltivare tulipani ovunque. Arriva in Europa per la prima volta nel 1554 e fu un ambasciatore fiammingo che era alla corte appunto di Solimano il Magnifico che spedì dei bulbi al responsabile dei giardini reali olandesi che era un botanico molto esperto, molto attento ed è così che si adopera per la coltivazione e diffusione del tulipano che si estende in tutti i Paesi Bassi e diventa un prodotto, un bene di russo, di moda e addirittura uno status symbol. C'è una forte richiesta e quindi i prezzi aumentano. Addirittura arriva ad essere il quarto prodotto per esportazione dell'Olanda dopo le aringhe, i formaggi e il gin. Ma a un certo momento il prezzo diventa esagerato e nel 1637 scoppia la bolla speculativa perché le aste vanno deserte, c'è un crollo dei prezzi ed è la rovina per tanti investitori, per dignitari, uomini d'affari e questa bolla passa alla storia appunto come la bolla del tulipano. Ma andiamo al fiore che è un fiore bellissimo, imponente di tanti colori, dall'arancione al bianco al giallo, al fucsia, rosa, rosso, viola e anche nero. Ha una fioritura che dura 3-4 settimane, da marzo ad aprile. I bulbi invece vanno piantati nei mesi precedenti, settembre-ottobre. Vi è una grande coltivazione perché è anche facile, richiede un terreno sabbioso ed esposto al sole. Tutte le nostre regioni sono interessate da questa coltivazione, molto anche il nostro Veneto, anche la nostra provincia, dove ci sono campi di tulipani che sono veramente una meraviglia. Quindi tulipano, un fiore amato e richiesto ed è bello ricevere come regalo, ma anche ovviamente come fare un regalo. Ricordiamo che in questo periodo c'è anche la Margherita, questo fiore delicato, spontaneo del candore ed è anche un nome, è un nome anche di una bimba dolce di nome Margherita. Grazie a Marisa Sottovia per questo bellissimo appuntamento dedicato alla storia. Adesso uno sguardo alle condizioni climatiche previste per il weekend purtroppo non sono buone. Avremo condizioni di variabilità a tratti, instabilità durante le ore centrali, con cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, poi con lo sviluppo di annuvolamenti irregolari dalla tarda mattinata e potrebbero essere presenti anche delle precipitazioni, anche per la giornata di domenica. Si chiude questo spazio dedicato agli ultimi fatti dal Veneto. Tra poco, dopo la nostra sigla, Erika Bortolato vi accompagnerà in un viaggio con Live PMA, un momento di approfondimento sulla procreazione medicalmente assistita. Grazie a tutti voi per l'attenzione e buon proseguimento su Telecittà.